Ragazzi buongiorno a tutti, qua è il primo video che porto su FIFA 19 e veramente non mi sono comprato FIFA 20 ma perché mi comprerò FIFA 21 comunque oggi vi volevo fare vedere questa carriera e fare un po' di partite comunque abbiamo già comprato se avete visto Kane e abbiamo venduto Winaldum e alcuni giocatori comunque le prime due partite che non abbiamo simulato perché questa sarà la carriera che non simuleremo mai le prime due partite le abbiamo vinte, una con il West Ham e l'altra con il Crystal Palace ora saremo contro il Brickdon e dopo se non sbaglio saremo contro una squadra delle più forti di Premier League no, ma il Leicester è forte il Leicester è molto forte diciamo però non è meglio il Tottenham perché quando affrontiamo il Tottenham sarà Henry Kane contro la sua ex squadra vabbò giochiamo contro il Brickdon comunque siamo primi con sei punti il secondo è Manchester con Mignoletta venduto perché avevamo fatto un'offerta e l'abbiamo venduta comunque ecco qua contro il Brickdon e possiamo andare alla durata quattro ragazzi metto direttante perché non sono molto forte vabbò dai mettiamo direttante nella prossima giuro che metto esperto perché su FIFA 18 mettevo leggenda ma non mi trovo bene con FIFA 19 vabbò iniziamo il Capo Cannoniere è uno non ci credo davvero il Capo Cannoniere è uno ma non ci posso dire è uno il Brickdon no, vabbò Iverpool contro Brickdon in diretta da Fiat siamo in casa allora posso pure vincere anche se hanno il Capo Cannoniere è il Brickdon ecco qua attaccante ruolo attaccante Moamed salai da 26 non ho visto ecco qua Moamed anche se per me è più forte è di gay perché è giovane e sta pure crescendo ovvero al 90 l'abbiamo pagato 150 milioni tantissimo Allison portiere Alexander comex Van Dijk Robertson Anderson Fabinho Keita Mané Kane Salah questa è la mia colmazione finora ho comprato solo Kane perché già e abbiamo ancora 8 milioni ecco il pallone sta per lì ecco qua è inizio battiamo noi perché siamo in casa comunque facciamo così 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 prendi mannaio passiamo così 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 e vai oh no 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 è possibile come la tipo stava per fare una pezza secondo ma dopo non è andata ma c'è questo il capogallo mio l'ho visto ed è quello attaccato e il Brickton è molto forte ma vabbè oh aspetta Mané Mané Sadio Sadio Mané Grosso no vabbè la partita che mi è piaciuta di più è stata quella contro il West Ham stavo giocando pure mia sorella ma ad un certo punto mia sorella si è fatta il gol e abbiamo vinto dopo 2 a 1 sì dopo ho fatto il 3 2 gol uno subito e l'altro all'82 ah no 3 a 1 sì perché ragazzi quando metto Miller vi giuro che fa sempre il terzo gol perché allora sta in panchina ma nella partita contro il West Ham ha fatto il 3 a 1 alla fine e nella partita contro il Crystal Palace quando l'ho messo subito ha fatto il 3 a 0 macchio cross ma andai al Brickton è più forte il Crystal Palace anche se il Crystal ha un 1 di saga oh l'ha preso il Robertson il Crystal l'ha pure già no è fuori gioco fuori gioco ah no ok grosso e gol no 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 ragazzi 22esimo le squadre sono proprio istrutte dai voglio un gol di Harry o pure Miller che dopo lo mettono al al cinquantesimo lo metto vi dico ma oh e fallo e fallo e vabbè però ragazzi era fallo un fallo andone intervento efficace così allora oh che ma questo fallo ma che fallo è grob ma ma come si chiama proprio ma quelli Brickton che sono non da jesse oh aspetta sala sala sei tutto tesoro vai vai dai che sei tu è nostra deviazione fondamentale del difensore che salva la porta vabbè questo è quasi un gol ha impedito sicura l'attaccante era già pronta esultare ancora 0-0 però aspettate l'ha presa no non è poi piove e diventa a crociare la scelta di tacchetti giusti per i giocatori in queste condizioni è fondamentale ragazzi sto è molto forte il Brickton perché sia il capocannoniere e già che sta pareggiando con noi e già tanto che noi siamo qui ecco il capocannoniere cercare il buco della ripresa avversaria ha il pallone del possibile vantaggio palla che finisce dentro dopo aver passato la potenza ragazzi penso che ha segnato il capocannoniere del Brickton fuori da ragazzi si può ragazzi un po' di fortuna qui ci vuole sempre ma la conclusione meritava sicuramente dai raga uno a uno dai dai che la pareggiamo ora gravi giuro che ora faccio il pareggio contro sti qua ma come hanno fatto sono una squadra fortissima però raga la nostra prima sconfittista la carriera no non la vogliamo nemmeno il pareggio noi vogliamo vincere ma cosa hanno fatto proprio un gioco ho passo corri corri Anderson ho passo gliela filtrante ma che filtrate ho fatto e dove vado qua no gliela volevo passare all'altro però oh cross vado di testa no raga stava segnando sarà babbo oh aspetta ultimazione cross tiro no raga finisce il primo aspetta non ancora non ancora tira si 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 l'ora uno l'ora uno umiliante che gol che gol che gol è raga ed è alexanderallo tagliamolo fine del primo tempo vai vai fischia oh arbitrate e vai raga uno uno dai ma c'è l'inizio che gol c'è l'ho fatto faccio un cambio ma aspetta alla destra o qua alla destra alla sinistra tolgo salò e metto shakiri perché salò è un posto che cos'era vero aspetta aspetta un difensore love era il debut dobbiamo fare mi ero ah no mi ero pure comprato non c'è il debut tutto vediamo cosa decide tutti i tre cambi finiti andone dovevamo fare il debut di Keita 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 passaglia Keita shakiri shakiri che cosa fa shakiri lo sapevo che ti avevo metto shakiri passo no che sta mangiando chi è Keita ora se ne va il cuocco Keita il posto di come ma cosa ma ma ha fatto il contrario per il giusto va vai è in attacco il stanno Keita dai dov'è sei vai vai robertson 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 passaglia nel debutto di non keita dai non l'ho mai tocca il pallone dov'è non keita non keita ah no questo è keita perchè con la n del rome non keita che ma ma vado passo vado passo ma eh no raga 1-1 per me oh no miller miller ah no ha finito però miller raga eh finito miller deve entrare fare il debut tutto oh dovrei farlo no è fallo ragazzi vi giuro che non ho cliccato niente niente ma che fa l'ho eh non ho cliccato all'isopara all'isopara blocco eh la patatina eh no il 2-1 raga lo 1 per questo questo è questo il capogalloniero questo eh adesso non avanti vai adesso vai 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 nostra vai subito qualcuno no no oh aspetta no che fallo eh basta però eh l'hanno è duro e ovviamente contro liverpool che può fare il break sadio vai vai fagli vedere quanto sei forte fagli vedere quanto sei forte vai fagli vedere ancora sullo 0 a 0 vai vai e può arrivare pure il 3-2 da noi vai 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 ragazzi che gol che ha fatto è fuori è fuori è fuori è fuori gioco no vai vai passa passa andiamo a fare un altro gol vai 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 andiamo andiamo no passaggio ho fatto dai raga dobbiamo fare il 3-2 devono perdere sti tira gol gol attenzione male male che gol quando è che avrebbero segnato ragazzi stiamo vincendo non so come abbiamo ripreso ma stiamo vincendo stiamo vincendo attenzione salio la recupero Keita Keita Fabinho 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 la passa Keita tirano ma bravissimo il giocatore è bravissimo il Keita ma c'è il gol che ha fatto nel 2-2 pareggio ha fatto recupero 1-2 raga 81 se non segnano hanno perso se non segnano il Brickton hanno perso robertson 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 e vabbò oh presa e vai alexander rando alexander rando crossa rossa no che brutto e vai tu mannaia Fabinho sadio mare no ragazzi ericane l'abbiamo tanto per un po' perchè ero un po' stanco ma ma dopo siccome il Keita hanno fatto pure il 2-2 attenzione raga possono fare il 4-2 e chiuderlo anche se l'unico è già chiuso passaggio tiro ma sta per pochissimo chi era ragazzi guardate è troppo fuori vedete un 66 è costato un milione di euro si e finisce così vittoria 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 attenzione vai vai guarda l'altro allenatore quanto è basso vittoria 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 e tutti che sultano salio il miglior tentativi totali 5-1 che ha fatto il gol dentro la 2-2 il primo gol l'ha fatto e alexander Aldo il secondo anche Aitan e il terzo ragazzi che è mazza e vinciamo pure questa ragazzi all'inizio ce l'hanno fatto un gol bellissimo non lo sapete ce l'hanno fatto Riccardo ma mazza che gol ha fatto 1-0 per loro alexander attenzione 1-0 per loro e gooo gooo alex andore questo è il capo cartoniale segno qua segno 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 il 2-2 sembrava finita ma PUM PUM e Mane segna il 3-2 guardate i pali filtrati segno e dopo il che ha fatto un tiro fuori il 19esimo però bello guardate davvero bello raga penso che il video può finire così e ci vediamo dopo ciao